Quando compare l'ansia per la data? Che data? Per la data dell'incontro di informazione. Ipotizzo sia con metodica alternativa. Schema e contenuti con soluzioni lungimiranti. La traccia è quanto prevede il progetto per il comparto scuola. Didattica gestione dell'informazione con metodo circolare, almeno formalmente, come negli anni 70, i primi accenni a superamento per alcune materie della collocazione tradizionale superata con banchi in circolo. La metodica alternativa può prevedere anche disposizioni apparentemente banali, ma in sostanza efficaci, integrate da un'esposizione dei contenuti non tradizionale. Attendiamo fiduciosi con nuove formule di comunicazione. Essenziale la comunicazione. Blog? Anche. Vetrina di lungimiranti idee al confronto. Redigere un taccuino con le migliori sostenibili azioni, utili, necessarie al gestore presente e futuro del municipio. Il vero municipio partecipato, dove i cittadini possono comunicare e ricevere spunti, riflessioni, occasioni migliorative per il proprio territorio, con il rispetto estremo verso aria, acqua, suolo. Sì, ma soprattutto con gestione della res pubblica canalizzata dall'etica, dall'altruismo, con la buona comunicazione al fine di seminare libertà, serenità, prosperità.